Il centro dell'Aquila oggi è un po' triste, mancano le colorate bancarelle che da più di 70 anni hanno sempre caratterizzato le vie del centro storico il 5 gennaio, per la mata e tanto cara agli aquilani, fiera dell'epifania. Si era sperato sino all'ultimo di poterla fare, le domande giunte da ogni parte d'Italia erano state più di 400, ma il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha detto no, troppi contagi. Una rinuncia con rammarico, ma la sicurezza prima di tutto, secondo il Comune, che comunque aveva predisposto con la FIVA un piano con meno banchi, circa 300 mascherine e distanza. Una fiera che neanche il sisma del 2009 aveva fermato, c'è riuscita la pandemia per due edizioni di seguito. Gli ambulanti oggi sono al loro posto nel mercato giornaliero di Piazza d'Armi, tra i banchi al Carverto Capretti, presidente di FIVA Confcommercio, organizzatore dell'evento con il Comune. Speravamo che quest'anno sia l'anno decisivo per ripartire, però purtroppo negli ultimi periodi di dicembre è andata a peggiorare e giustamente la Prefettura insieme al Vice Sindaco Raffaele Raniele si è deciso di rimandarla al prossimo anno. Con grave perdita per gli operatori, perché gli operatori sono due anni che stanno veramente in crisi. Guarda, io faccio il rappresentante regionale degli ambulanti e stiamo veramente fortemente in crisi. Non è colpa di nessuno, è colpa del Covid-19, però tutti gli amministratori ci stanno vicini, però più di questo non si può fare. La salute dei cittadini è primaria, perché la salute dei cittadini siamo noi prima cittadini e poi imprenditori. Noi dobbiamo capire, infatti nessuno si è permesso di dire perché è saltata. È saltata perché si è allargato il contagio negli ultimi giorni, se no oggi stavamo facendo la fiera. La giornata oggi era stupenda, come quella dell'anno scorso, che è stata una giornata bella e sicuramente i cittadini sarebbero stati entusiasti dell'evento. L'evento è stato organizzato alla perfezione, solo che il contagio non si può fermare con gli assemblamenti e tutto l'altro. La fiera chiudeva le festività, era l'appuntamento più atteso. Si riversavano in città moltissime persone provenienti anche da fuori. La piadina romagnola, le stranezze all'ultimo grido per la casa, aprendi social oggi, molti postano foto delle vecchie edizioni, sperando nel prossimo anno.